L'affidabilità di un componente corrisponde alla capacità di garantire una determinata funzione per un periodo di tempo prestabilito, legato al tipo di prodotto. Grazie ai test dinamici è possibile individuare il comportamento di un materiale sottoposto a tensioni variabili nel tempo e simulare le reali condizioni di esercizio. Nella definizione di un test custom è essenziale la collaborazione con il cliente, che si confronta con i nostri tecnici per stabilire le migliori modalità di testing e progettare le attrezzature necessarie. In particolare TechEuroLab dispone di una macchina servoidraulica da 500 kN con la quale è possibile eseguire test dinamici in base alle esigenze del cliente. La macchina di prova consente di inserire componenti di grandi dimensioni e grazie alla realizzazione di opportune attrezzature studiate insieme al committente si ha la possibilità di vincolare e testare anche componenti dalla geometria complessa. È per questo che i settori industriali coinvolti sono molteplici, dall'automotive all'aerospace, dall' oil and gas a quello ferroviario.